Non abbiamo patteggiato e di conseguenza è venuto fuori un po' di sorpresa, nel senso che non c'erano testi da Inghilterra. Il film Lupin, romanzo di un ladro reale, arriverà sugli schermi cinematografici a Savona lunedì e mentre le immagini dal film scorrono sullo schermo, vi raccontiamo ciò che il regista Valerio Burli, giovane romano, ci ha confidato circa l'inizio del suo lavoro. Mancavano 24 ore utili alla presentazione del progetto, alla commissione d'esame del Centro Sperimentale di Cinematografia dell'Aquila, per diventare regista, e sino ad allora nessuna idea. Poi a un tratto l'illuminazione, la storia di Renato Rinino, di professione si fa per dire ladro, è balzato alla cronaca per essersi trovato, per caso e solo, nel palazzo londinese dei Reali. Un po' come un topo in un negozio dentro un magazzino di formaggi. Il regista Valerio Burli, presa una tenda da campo, un paio di scarpe comode, uno zaino e più di 60 ore di dischi di memoria per realizzare i filmati, ha cominciato un giro per la città di Savona, per i suoi vicoli e punti caratteristici, e poi un salto a Piazzale Moroni, dove Lupin, come era soprannominato Rinino, trovò la morte 12 anni fa per motivi di gelosia. Il lavoro presentato da Burli non è certo l'esaltazione del ladro, ma la ricerca dell'uomo, anche nella sua debolezza e nella sua autoironia. Il film è già stato presentato a Roma al MED Festival, dove ha ottenuto un'ottima critica. Lunedì il film verrà proiettato a Savona al Cinema Diana per 5 proiezioni, dal pomeriggio alla sera, e il prezzo di ingresso alla proiezione è stato concordato in 5 euro. Il doc film offre un ritratto di Rinino attraverso le testimonianze degli amici e dei familiari, ritraendo così non solo la persona, ma anche quella realtà che uscì la tradisperazione e la risata, atmosfera che si respirava nel quartiere di Piazzale Moroni in quegli anni 80-90-2000. Insomma, una vera commedia all'italiana che arriva da Savona.